Sono fatto così Ma questo l'ho fatto Aprire, puoi aprire, certo, certo Lo puoi aprire, lo puoi aprire, certamente Questo è l'apritipo che ho messo il budget di mano mia Mi sono impegnato per questo Spero ti piaccia Grazie Prego, prego, non ci mancherebbe Questi sono taralli che mi hanno venduto dentro la Puglia Questi sono patatini di Amsterdam Grazie E questo invece è un prosecco Se ne ti va lo lascio aprire a te Davvero, lo posso aprire? Sì, certo, lo puoi aprire a te E' tuo di Apri pure, apri pure Vai Certo, certo Dai, ho tipo l'ansia da prestazione No, vai tranquilla, vai tranquilla A me non si alza il cazzo quando si alza l'ansia Anche a me Hai cazzo Ah, non lo farei? No, no, ci sta E' un problema No, 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 va benissimo No, perché non vorrei che mi chiudi i tasti No, 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 sicuramente Pala l'impala E l'impala? Ma mi sento, non l'isbala? Ho capito Pala l'impala Che cazzo vuol dire? Vabbè Sab Ah, niente Dov'è il penarello? Io devo sbocciare Aspettiamo che sboccia lei Posso sbocciare da sola? No, 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 arrivo, arrivo Arrivo, arrivo Arrivo, arrivo Fai te lo verso in bocca Dove lo verso? Non si vede Non si vede Se qualcuno si vuole stampare con il filtro il sub Ragazzi Verrà scritto su questa bagnetta Quindi per potete farlo Allora E' assimile pala d'impala Aspetta, aspetta Sbocciarla E' assimile pala d'impala Pa La Din Pa La Punto di schermatio premuto E' scritto il sub Vai Sbucciamo Davide 0-1 Eh? Davide 0-1 Posso notare che la blocchi mentre stasso che sto fare Davide 0-1? Mhm Grazie Davide 0-1 Non so se riesco E' duro Eh cavolo Eh Eh ci sta, ci sta E' un po' duro lo fai tu Sì 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 Vai vai Ok Ah Ah Io ho paura, ho paura delle cose Versa, versa pure Grazie mille Gentilissima Gentilissima Salute Salute, salute Bienvenu Bienvenu Che stai facendo? Ah Ok ok Grazie mille Grazie mille Gentilissima Davvero Ehm Era durissimo Era durissimo Buonissime No no Non mi fido Dopo quella maionese Che mi hai leccato dal polpaccio Io Non mangio più maionese Eh penso io Quella è fuori scaduta e l'ho mangiata Io non mangio maionese Da quel giorno Sei stata omotizzata Come 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 è stato il ritorno in Italia? Non me ne frega un cazzo Non è merda Ok Però Vabbè No dai Ho visto la mia famiglia I miei amici È stato bello E quanto stai qua? Un mese E In questo mese hai intenzione di Fare un bambino con te? Di farti scopare da me No E Non lo so Cioè Dovrei parlare con la mia ragazza No ci sta Ci sta Perché noi Salute a tutti i brand Io e Agatha Siamo sempre insieme Quindi dovrebbe essere Cioè O tutte e due O nessuno Capito? Certo certo No ci sta Quindi Non so So che magari Non ti piacerebbe Quindi Sì Dovresti Dai Scusate mi piace Ok E qui dovrei chiedere Dovresti chiedere Sì dovresti chiedere ad Agatha Anche te se sei d'accordo Non c'è E In caso comunque Dormiresti nel mezzo Tra me Dai No brutto No 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 Non ti piace Schifo No niente No niente Vabbè ci ho provato Ci ho provato Salute 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 Ehm Passami il telefono un attimo Che mi riprenda selfie Anzi Aspetta un attimo Vediamo cosa tu hai la chat Ero curioso Ero curioso Trisom rosso proponiglielo Testa di cazzo Ma come sei Che testa di cazzo Grazie mille Nessuno 01 Per le sub Grazie mille bro Per la classifica giornaliera Grazie mille Nessuno 01 Ma come era nessuno Nessuno 001 Zero Ok Grazie mille bro Grazie mille Grazie mille Ok ok Ehm In questo mese Cos'hai fatto a Washington Lì dove eri A Portolico Eh niente Mi sono divertita Con le mie amiche Con Agatha Ehm Sì Ok ok E come sono le portoricane I portoricani Belli belli Molto belli Ok ok Potrei aver successo A Portolico io Sì Sì Perché Ah perché Anche tu sei bello E lì Comunque Sei bello Sì Ma anche per i Magari sono un po Troppo bianco no No Sono bianchi i portoricani Sì Sì Ok ok Io sono particolarmente bianco Sono più irlandese Sai che io ho origini irlandesi Sì No piaceresti molto lì Perché sei diverso Lì nessuno ha i capelli rossi Ok 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 Ma tu sei la mia storia No Non voglio nemmeno raccontare Sinceramente Beh Cazzo Almeno non me ne prego un cazzo Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Vedi Siamo già con la nostra prima di te Ma che cazzo c'è Ti stavo dicendo una cosa? Eh ok Dai Dai Mi vettimi Verratti Ok Ma ci sta Ci sta Ci sta Ehm Io ti accetto Per come sei Siamo finita le briciole dentro il mio bicchiere Devo dire che No No Se non mi dico Non sbatti le palle in faccia Cazzo Anzi Cazzo è più metaforico Se ne favo più Vuoi farmi una domanda? Mi sto incidendo un po' Sì No No vabbè dai Ehm No Una domanda magari Cioè per diventare un tau Cioè sono una persona Ok Ok Scusami Che sai No Hai te paura degli aerei? Dei? Aerei Degli aerei Ho fatto dei neri Ehm Allora prendere i miei figli neri eh Sì vai a prenderli Facciamo vedere pure Potrebbero essere i miei figli L'ho messo io a testa in giù Io ho paura degli aerei Sì Sì Che schifo Ci sono le briciole Ciao Ciao Ah cos'è tipo appuntamento a No adesso ci sono io perché Torno Cioè Voglio Che io e te Usciamo insieme Ah sì? Sì Eh devi chiedere prima a lui No è perché Il rosso non è stato molto Cioè Io e te Possiamo fare grandi cose insieme E Quindi Possiamo stare insieme per sempre No Sì No io sono leale Io non tradisco Ah si fidanzata? Sì Con chi? Con Con una Con il rosso? No Con una ragazza Con una ragazza? Vabbè non c'è niente di male ovviamente Però Io Mi sono innamorato Io mi sono innamorato di te Mi sei innamorato di me? Sì Eh però io sono innamorato di un'altra Eh ma tanto Si può avere una relazione anche con un uomo Ah dici avere una Una donna e un uomo Una donna e un uomo sì Eh sì? Sì Boh non lo so Ehm Ma se dovessi avere una donna e un uomo Sceglierei il rosso Perché sceglierei il rosso? Tra tutti gli uomini Eh perché mi piace lui Motivo? Eh boh è così affascinante Ma anche io sono affascinante Perché Lo conosco da più tempo Lo conosci da più tempo ma Ragazzi mettetela Mi parto un orgasmo ogni volta che fate qualcosa Mi prego Dai vieni qua a sedere Siedi Hai spruzzato la merda No no io devo uscire Ma Samantha vieni qui Tanto non è successo niente Tanto Eh devo anche dirti una cosa Prima di iniziare una relazione con me Bienvenue 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 Dans le cul Dans le cul No sta andando bene Vieni qua dobbiamo parlare Dans le cul Dans le cul Dans le cul Pronto Bienvenue Mattia Vieni qua dobbiamo parlare Sono qua che cazzo vuoi Ehm comunque Se noi continuiamo a uscire E tutto Io Comunque dovresti sapere una cosa Io ho due figli I gemelli Ehm Sono niente Sono i miei zii quelli No Sono niente E quindi dovresti sapere Ah cosa ti metti No 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 Che 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 le hao No le hao no Le hao no Le hao no Allora tiro questo Motti il vino No 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 mettilo qua Mettilo qua come sono Sono delle bagiurre Vabbè No sono delle bagiurre Sì però A me No a me mi piace tenermelo qua Così Mi piace tenerlo lì Sì mi piace tenerlo qua A me piace tenerlo lì Quindi ora che sai che ho un figlio Come ti senti No 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 Ah Ah Così ci capitano Sì sì Ci sta Ci sta Carino Carino Ehm Ma sto dicendo Tu vorresti fare un viaggio con me Sì Tre giorni Cioè c'è un tre giorni In un Sì Dove Non so Dove ti piace andare a te Boh a me Andiamo Dove vuoi Possiamo andare tipo al lago di Garda Ma non sei andata a Gardaland Sì sono stata a Gardaland Sì Andiamo Ma te invece è un tornado No ho paura Cos'è paura Delle Delle Oh mi prego le partite Ok ok Ci sta Ci sta Oddio No 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 Voi avrei Vedo Meglio un attimino nel mentre Un attimino nel mentre Ehm Perché dovresti avere un figlio nero te? Eh perché è una storia complicata Ok ok Vuoi raccontarmi uno dei tuoi ultimi Però degli ultimi anni Sola per conoscerti meglio Ok Con chi? Ehm Inizio di segno di nomi Quale? Allora Faci di te Oh no Non so Che l'ultima la vogliono sapere la vogliono sapere loro no però non posso dire chi no però adesso da vero stavolta non posso dire chi puoi mutare e sapere posso saperlo si però muta è il tipo di philip lane ha detto no comunque vuoi sapere con chi mi sono sentito negli ultimi tre anni? con nessuno no che cazzo vuoi? con chi ti sei sentito? quello non è a posto io che sfortuna quel bambino io ma hai capito quello che ti ho detto? tu vuoi sapere meglio però beh dopo ne parliamo vediamo no non mi vengono in mente i florti che potrei dire perché poi hai fatto un carrino no ti ho fatto solo che è un favore nominare quel santo saluto a a fratello di di Marco Rossi si vabbè tanto ormai quindi posso dirlo? no sub dimmi il nome vai Giovanni la rovere 09 la rovere coglione la rovere lo sto allattando posso allattare anch'io? cioè posso essere allattato? niente porca puttana se mi vuoi essere leao un bambolotto ripeti? Giovanni la rovere no è possibile ciao leao che ti stai sovi guardati fidati fidati nulla impossibile Giovanni la rovere 09 la rovere il berna 5 mi sta venendo voglia di avere un bambino lo facciamo? vai sopra il tavolo giù com'è giù? no 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 non lo hai pensato? das le qü das le qü das le qü das le qü ok ti faccio vedere una magia dopo che scrivo questo nome il berna 05 c'è credito per un secondo posso dire? toni 63 a 82 berna 5 toni 63 a 82 ok ok eh? swampy swampy e il wapesley ok 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 vabbè oh aspetta voglio parte una magia tiro giù tiriamo giù solo questo e ti faccio vedere che solo perché è pesante ti faccio vedere che io riesco a tirare giù la tovaglia senza far cadere nulla no 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 ok 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 solo perché maxfit bollate ci ha prestato la palestra tolgo tolgo anche il magari da mangiare ti dimostro appunto con i bambolotti che non succede nulla no a parte di scherzo ma non puoi tornare alla tavola non puoi tornare alla tavola non puoi tornare alla tavola no 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 vai tranquillo vai tranquillo davvero io queste cose le ho studiate allora voglio un po' di io in chat un po' di io in chat solo in due sono capace a fare in Italia Vegas Jones mamma mia Vegas Jones sono dei cantati che non riesco a sentire giù ma che senso ha che lei mette lì sopra chiudi gli occhi non vedrai più la tovaglia dopo un applauso dai è venuto però è per bene è per tutto per bene dai non è dalto sporco no 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 dopo 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 certamente sistemiamo ragazzi quindi tranquilli tranquilli ovviamente serve una piccola scopo per il resto lo sistemo tutto cioè non è non è non è quello che cazzone c'è aspettate tutto bene tutto bene non capisco sentite pure sentite pure continuiamo pure la nostra chiacchierata che vado in bagno vado in bagno due secondi aspetta parla con la chat perché vai in bagno? faccio dopo la pipì scapare la pipì posso venire con tante? no vabbè io parlo con la chat no 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 passa dai passa al telefono parliamo un po' con la chat tutte e due veniamo di qua che va?